Diventa un caso nazionale il no del Consiglio Comunale di Cortona all'intitolazione di una scuola Davide Sassoli. La proposta, targata PD, era stata bocciata dall'amministrazione comunale perché la scuola, in oggetto, afferma il sindaco Luciano Meoni, è già intitolata ad Umberto Morra, scrittore e giornalista amico di Piero Gobetti, già con cittadino onorario di Cortona, dove è morto nel 1981. La nuova scuola porterà comunque il suo nome. Subito dopo la bocciatura della mozione, era stato il fratello di Davide Sassoli, Mario Gori Sassoli, ad inviare una lettera aperta al sindaco Meoni. Poi, l'intervento del segretario nazionale del PD, Enrico Letta. Dopo la scomparsa di Davide, voci di ogni orientamento si sono espresse in suo ricordo, afferma, tante le iniziative per commemorarlo, unendo il nostro paese in un periodo complesso e faticoso. Per questo colpisce la decisione del Consiglio Comunale di Cortona di negare l'intitolazione di una scuola a Camucia, alla sua memoria. È una grande occasione persa, inspiegabile e dolorosa. Immediata la replica del sindaco di Cortona. Non è possibile, afferma Meoni, dedicare a qualcuno un polo scolastico già intitolato. È curioso che Enrico Letta sia finito in questa polemica sterile. Si vede che non conosce bene il territorio cortonese, che sarebbe peraltro il suo collegio di elezione. Il segretario nazionale PD è stato mal consigliato dagli esponenti locali del suo partito. Se infatti avessero presentato una mozione non mirata all'intitolazione di questo nuovo edificio, ma orientata a ricordare David Sassoli con un toponimo o con la dedica ad un nuovo monumento, l'esito sarebbe stato ben diverso.